Comincia con il piede giusto la nuova stagione di Enduro e Downhill della Pavit Bike Team che la scorsa domenica ha ben figurato nella prima tappa del Gravity Challenge a Valle Rotonde in provincia di Frossinone e a Treia nel Maceratese. E' stato un inizio col botto per i ragazzi guidati da Luca Puglielli che a Valle Rotonda hanno conquistato ben nove podi. Spicca innanzitutto il primo posto assoluto e negli M1 di Emanuele Grimaldi. Nelle varie categorie da registrare il primo piazzamento di Jonas Badrezzamane negli allievi i secondi posti di Valerio Di Ghionno nella categoria M1 Salvatore Marabese M2, Luca Puglielli M4, Antonio Loffredo allievi e Gianluca Puglielli esordienti. Mentre sono giunti i terzi Matteo Di Giovanni negli allievi e Jimmy Antonini nella categoria Juniors. A Treia invece c'è stato il primo posto di Angelo Paris negli allievi esordienti. Si tratta di risultati incoraggianti che servono a spronare maggiormente per le prossime gare il team Peligno che nutre forti ambizioni in questo 2019.